Ecco, facciamo un giochino, immaginiamo per un attimo che Pippo Materangeli fosse il coach dell'Udas. Come gestirebbe questo momento magico, magari i facili entusiasmi che possono derivare dalle 12 vittorie consecutive? Come lo sta facendo, come l'ha fatto finora e come lo farà in seguito ancora Matteo Totaro, non mi azzarderei mai a farlo neanche per giochino perché sono sicuro che farei una figuraccia proprio pessima. Matteo non ha un compito facile perché tenere in squadra tre componenti di grande esperienza come Ionicas, Sierra e Serazzi non è facile. Serazzi è uno che ha un carattere molto più malleabile, ma Ionicas che parla poco italiano, non perché adesso si arrangia ma la sfumatura della battuta non la percepisce quindi facilmente, eccetera. Ho uno che è duro di carattere ma è duro con se stesso prima che con gli altri come Ugo Sierra, non è facile tenerli bene insieme. Se poi a questo aggiungi anche personalità che con il tempo noi stiamo scoprendo essere veramente straordinari. Io parlo di Armando Liguori, che dal primo momento che ho visto, giuro, disse questo è fortissimo. Questo bisogna tenerselo stretto perché è un ragazzo che se va tutto bene ci accompagnerà ancora per molti anni. Peraltro è un ragazzino proprio, giovanissimo, ma giuro, chi l'ha visto lo sa, è forte, ma è forte davvero. E poi è incosciente, cioè veramente è pazzo, sembra pazzo perché lui non se ne frega niente di fronte, non lo so, a Morena, capisci? Che è un'altra grossissima autorità del basket pugliese, è un altro, un totem, capisci? Cioè lui si è voltato, ha preso palla e gli è andato sotto, gli è andato bello tranquillo a canestro, senza nessun timore reverenziale. Allora o sei pazzo o c'è un talento infinito. Io non credo che sia pazzo, per cui voglio dire la soluzione si trova da sé. Abbiamo già detto che lei è un tifosissimo dell'Udas, segue la squadra anche in trasferta, ma la vediamo spesso anche al Palazzetto quando ci sono le partite dell'Olimpica. Ecco, avverte o se per lei esiste una rivalità fra le due tifoserie? Ad esempio in Casa Olimpica ultimamente va di moda il gufo, oppure ricordiamo comunque degli episodi censurabili come lo strappo del manifesto dell'Olimpico quando sono state manomesse le bachiche dell'Udas al Palazzetto. Ecco, tutto ciò deriva da una concreta rivalità fra le due tifoserie? Ma no, concreta rivalità, sono sia i nostri che gli altri, sono tutti ragazzi, persone per bene, sono tutte quante persone che sono bravi. Loro magari quest'anno stanno un attimino in soggezione perché hanno una bella squadra, ma i risultati hanno fatto una scelta diversa, una scelta di chiusura, di riopposizione, di contrapposizione, che in tutta sincerità a livello di C2, peraltro in una città piccola che non ha nessuna tradizione di basket, probabilmente, però, sai, io uno lo conosco bene, il carabiniere, come si chiama, Romano, Tonino Romano, è un ragazzo straordinario, è una persona per bene, ma sono tutti quanti così, sono tutti quanti, poi lo sfottò la storia così, ma sì, dai, insomma, se poi ci togliete pure quello, addio. Se si dovesse sbilanciare con la promozione un obiettivo davvero realizzabile per l'Udas, quali sono ad oggi le percentuali che a giugno potremmo vedere l'Udas festeggiare la promozione? Allora, le percentuali non lo so, e sai perché? Perché quest'anno, in tutto, diciamo, in tutto l'entusiasmo che c'è, noi siamo stati sfortunati, perché due squadre di categoria superiore hanno rinunciato alle rispettive categorie e si sono iscritti alla C2, e una di queste è Ostuni. Allora, Mimmo Morena è forte, ma l'Ostuni non è Mimmo Morena soltanto, noi li abbiamo visti qua, sono venuti, sono forti, 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 tutti, 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 argentino, mezzo, sono tutti forti. La stessa cosa vale anche per la certistica barletta. Io conosco il loro presidente, è un mio collega, è un avvocato come me, ci conosciamo da moltissimi anni, abbiamo parlato qualche domenica fa, che è venuto lui a vedersi una partita qua, mi ha detto che hanno cercato di fare il salto nella C1, non era possibile per loro gestirla, perché per tutta una serie di questioni hanno dovuto fare un passo indietro, ma il barletta comunque mantiene una struttura, adesso poi più che mai che si è rafforzata tantissimo, perché Corvino e Corvino, ci sono delle individualità veramente straordinarie, per cui anche loro sono sicuramente alla pari con noi e con Ostuni. Gli scorsi anni non c'era questo discorso, gli scorsi anni abbiamo avuto, l'anno scorso c'era Nardò, che sicuramente aveva la panchina lunghissima e solo per questo ci era superiore, perché probabilmente nel quintetto eravamo più forti di loro. Però c'era Ceglie anche, che come noi era una squadra capacissima di fare tutto, nel Ceglie c'erano giocatori che avevano giocato in Serie A, Damiano Faggiano a Caserta aveva vinto uno scudetto, seppur da riserva, il primo anno che è arrivato, Paoligno Motta ha giocato a Roseto in Serie A, Kevin Lescott non potrà giocarci perché purtroppo abbiamo sto regolamento che è un attimino tarpa le ali, però lo vedremo l'anno scorso a Ceglie, in quella che comunque continua ad essere, io immagino rimarrà a lungo la partita più bella che si sia mai disputata in Serie C2, che noi abbiamo avuto la fortuna di giocare, purtroppo l'abbiamo persa, però è stata una cosa straordinaria. Infatti con gli amici di Ceglie siamo rimasti tutti quanti, ancora oggi, loro sono venuti a Brindisi sabato scorso, sono venuti da Ceglie a vedersi la partita, ma non per fare il tifo per loro, per fare il tifo per noi, perché quando hai visto una cosa come quella, poi siamo usciti tutti quanti dallo stadio, sai è come se avessi visto la Madonna, insomma un attimino, non è possibile, riusciva tutto, qualsiasi giocata da dietro, da lunghissimo, dalla vista, Mirabilie, fu una partita storica, questo per dirti che anche Ceglie era una realtà straordinaria, poi quella stupidaggine alla fine del campionato li ha portati completamente fuori dalla Serie C2 ed è un peccato perché loro doverano esserci a tutti i costi, però sai, i regolamenti sono regolamenti e non stiamo qui a discuterne. Però non ci stava lo squadrono, a questo voglio aggiungerti ancora un'altra cosa, se è Barletta ci è sicuramente superiore per tradizione, per caratura storica, eccetera, Ostuni è uno dei pilastri pugliesi del basket, cioè non è che sono, capisci quelli che sono come noi, che sono arrivati l'altro ieri o addirittura ieri, loro sono storicamente nel basket e lo fanno e hanno organizzazioni che rispetto alla nostra sono molto molto superiori a noi e noi su quello probabilmente dovremo confrontarci con loro sia prendendo spunto perché loro hanno molto da insegnarci e soprattutto impegnandoci a far sì che nonostante tutto, poi alla fine possiamo prevalere noi, la classifica già oggi ha scavato il sonco perché noi siamo primi di due punti rispetto a loro perché abbiamo vinto il confronto diretto, quindi teoricamente siamo tutti ancora a pari punti, ce lo giocheremo tutto al ritorno che peraltro faremo a casa loro dove non dovremo perdere di più di 5 punti o 6 punti, adesso non ricordo come finirà, se è 79 a 74 finirà partire, quindi non dobbiamo perdere più di 5 punti, chiaramente dovremmo vincere per rimanere primi perché poi alla fine chi arriva in testa alla classifica ha nei play-off il vantaggio di avere sempre le due gare in casa e uno in trasferenza, la bella in casa sarebbe. E quindi avere il vantaggio di farsi la bella in casa con Ostuni è, a mio avviso, la chiave di volta del campionato. Quindi, vabbè, questo non c'è bisogno, bisognerà stare sempre con i piedi non piantati per terra, di più con le radici, stare belli, calmi e tranquilli e sereni, non montarsi la testa, e questo devo dire fortunatamente non sta succedendo, anche perché, vi ripeto, molti dei ragazzi sono giovani, ma sono tutti quanti molto molto a modo, molto bravi sotto questo punto di vista. E quindi cercare di evitare la sconfitta che non ti aspetti, la storia così, eccetera, eccetera. però, magari, augurarsi che possa capitare a loro, che possa capitare ad Ostuni. Se, come invece ritengo, le cose andranno avanti così, con noi sempre di due punti in testa, e poi ci dovremo giocare tutto in quella partita, e vorrà dire che tutto il campionato sarà strutturato per quella partita là, insomma, e poi pazienza. Ma vedi che questo si capiva bene anche dalla partita che loro hanno fatto qua. A loro perdere di 5 stava benissimo. Io lì per lì non riuscivo a rendermi conto del perché gli ultimi 12-15 secondi loro li hanno sprecati. Stava lì menzione che palleggiava nella nostra metà campo e non attaccava. Ed è finita così. Perché loro perdere di 5 andava bene. Andava bene. Contano molto sul fatto che in casa possono fare, poi naturalmente hanno un tipo organizzatissimo, un tipo della Serie B. Soprattutto hanno un palazzetto dello sport che noi non abbiamo. E questo è il grosso e enorme di più, enormissimo, se si potesse dire, limite. E quindi niente. Qui vediamo che succede a febbraio. Chiudiamo chiedendoti dell'anticipazione e retroscena sul tuo prossimo lavoro. Sivo Cifera che sta scrivendo un libro su Gosierra, Guardia Uruguayana della Castellano Udas che anno dopo anno sta facendo la storia del club. Dove e come nasce questa idea di cosa tratterà e soprattutto quando tutti gli appassionati e tifosi potranno acquistarlo? Cioè il segreto di Pulcinello è diventato. No, ti spiego subito. A me il basket piace, è inutile che lo stiamo a dipendere ogni volta. Ma quello che vorrei che fosse condiviso a tutti i livelli, quindi non soltanto dalla sponda nostra, dappertutto, è che tutto quanto questo, l'Udas, la Sol Energy gli scorsi anni, quest'anno l'Olimpica con l'altro sponsor, eccetera, è potuto succedere solo per una persona. E quella persona si chiama Ugo Sierra. Perché se noi non avessimo avuto... Allora, Ugo Sierra chi è? Ugo Sierra è un giocatore di una bravura strepitosa che ha avuto una grandissima sfiga nella vita, cioè di lasciare perdere un anno, un tram che passava soltanto in quel momento, che è passato soltanto in quel momento e quando ha ripreso il tram, purtroppo, in Italia, è entrato in vigore il regolamento che gli impediva di giocare nelle altre serie. Tutti quanti gli altri... Questo è successo quando in Sud America c'è stata la crisi profonda Argentina-Uruguay, eccetera. Quindi loro... Ugo Sierra era un giocatore di Serie A, è stato capo cannonile di Serie A, cioè non è... Peraltro il basket che si gioca in Sud America non è il basket che si gioca in Marocco, dove pure si giocherà un buon basket. Insomma, si gioca un basket di livello, molti stanno qua, hanno fatto fortuna qua. Mazzarino se ne è andato l'anno scorso da Cantù, ma è stato, diciamo, uno dei... Peraltro ha giocato insieme a Ugo Sierra, tanto per dirtene una, però Mazzarino è arrivato a giocarsi la Serie A, è arrivato a farsi l'Eurolega e quant'altro. Ugo purtroppo per essere arrivato in Italia con un anno di ritardo perché aveva un buon contratto ancora lì, eccetera. Per tornare al significato di tutto questo, Ugo comunque è il protagonista assoluto, cioè se oggi abbiamo, se oggi stai tu a intervistare me e qualcuno sta sentendo quello che io e te stiamo dicendo, è soltanto perché un bel giorno è arrivato qui a Cerignola Ugo Sierra che ha fatto capire che cose perché a vederlo dal vivo è una cosa ubriacante, è una cosa che ti fa morire, se ti piace poi il basket è il massimo. Tutto quanto questo, quindi Olimpica, Udast, è nato perché è arrivato lui qui, bisognava far sì che, e poi aggiungi un'ultima cosa, scusami, faccio un passo indietro, comunque è un grosso personaggio, un personaggio, sì, uno che si è fatto completamente da sé, che ha un carattere pessimo, non pessimo, è una persona che ha carattere, ecco, non è che ha carattere pessimo, è uno che ha un carattere enorme, ed è uno che difficilmente dice delle bugie, non mente mai, se è una cosa te la dice e te la dice e basta. Poi, chiaramente, ha 40 anni, non è un ragazzino, e se metti insieme tutti quanti questi punti, credo che alla fine del discorso, quello di fare conoscere al mondo del basket, sono quei quattro che siamo adesso, anzi, oggi siamo cinque, perché siamo partiti in tre, poi si aggiungerò qualcosa su questo argomento, se ancora abbiamo tempo, era proprio un regalo che bisognava fare a Dugo Sierra, un regalo che forse potrebbe anche portare fortuna a noi, e io me lo auguro di cuore, perché dopo tutto quanto quello che stiamo vedendo, dopo lo spettacolo straordinario che ci stanno offrendo i ragazzi in campo, eccetera, noi dobbiamo ancora crescere come esperienza, eccetera, però ce la stiamo veramente mettendo tutta e credo che lo meritiamo, meritiamo il palcoscenico superiore, meritiamo molto di più, non abbiamo la struttura, viviamo in un paese che non ha nessuna tradizione sportiva, neanche a livello politico è mai stata apprezzata, perché la struttura in cui si svolgono gli allenamenti e partite di basket non è un palazzetto dello sport, è una palestra multifunzionale, sono state fatte delle scelte improvvide all'epoca, perché io non credo, ho qualche dubbio, poi mi posso anche sbagliare, ho salito di politica che non capisco niente, però non credo che Cerignola fosse la città dove era indispensabile avere la piscina comunale, non lo so, non credo, forse sarebbe stato meglio destinare quelle cose a costruire qualcosa di più importante, perché poi oggi come vedi, sai, i miracoli non si fanno per caso, quello che è successo che sta succedendo a Brindisi che fino all'altra domenica erano primi da soli nel campionato di Serie A, quello che è successo a Molfetta nel volley che sono andati da una squadra di C2 sono diventati una delle principali realtà italiane di Serie A, non si costruisce sul niente, ma per poterlo fare almeno devi avere il posto dove si può fare, cioè alla fine se ci mettiamo a giocare i etè a pallone su un campetto qua fuori, faremo la partita a pallone i etè non andremo mai in Serie A insomma, capisci? Per poterlo fare ci vuole e spero che chissà, parlandone qualcuno si renda conto che veramente al di là delle chiacchiere che si stanno facendo un po' anche speculando forse su questi argomenti si comincia a pensare seriamente che è arrivato il momento perché se no non prende piede, ha già preso tantissimo piede e questa è la piccola notazione che volevo fare, la cosa bella che mi diverte moltissimo e che diverte anche il mio amico Filippo De Luca che sono contento poi sentirà questa cosa è che abbiamo ricominciato che eravamo tre poi siamo diventati quattro poi otto poi dieci adesso cominciano a starci intorno persone che io conosco di vista non so come si chiamano ma mi fa un piacere immenso perché è tutta gente che finalmente ha capito che non si può cioè il calcio basta basta, basta, basta d'altro canto solo un pazzo può investire nel calcio questo è quello che penso ma questo è quello che diciamo a farci due conti come si dice la Cedignola alla femminina immagina per tenere un campionato di serie D mi dicevano lo scorso anno che il Cedignola avrebbe potuto militare in serie D ci volevano 750 mila euro fai più o meno un campionato per la salvezza se vuoi andare avanti ci vuole un milione di euro un milione e duecento mila euro che cosa io invece mila euro facciamo un discorso semplice stupido io sono un imprenditore che ho un'impresa X che voglio investire che faccio metto fuori un milione di euro per andare a sponsorizzare la squadra di serie B dopodiché tutte e due io e te andiamo a stornare e andiamo a dire scusate voi sapete chi è che sponsorizza la squadra di serie D di Cedignola non lo sarà nessuno non lo sarà nessuno la serie D non ti dico se dovessimo parlare di andare ancora più oltre nel basket avere a disposizione un milione di euro facciamo la serie B ma bene e ci cominciamo a parlare già capisci con la prima dell'alfabeto che magari con un numero 2 messo dietro però capisci la soddisfazione di averlo io già sono felicissimo di averlo qua dietro a casa Ugo Sietta Donatas Cuglielmo e tutti i ragazzi perché per me già è un miracolo però è arrivato sta succedendo sta succedendo sotto i nostri occhi c'è un sacco di gente che non ti aspetti che sta bene vengono in trasferta a Manfredonia la settimana scorsa eravamo 100 forse anche di più eravamo a momenti più nuovi di loro ma era gente che la vedi la vedi anche al palazzetto poi ti fa un piacere immenso che tutti quanti noi ci stiamo esaltando a vedere quello che ormai dovremmo smettere di chiamare sport minore perché è lo sport più bello in assoluto perché lo spettacolo che noi vediamo anche nelle partite brutte di pallacanestro è sempre 10.000 volte più bello delle partite di calcio questo è poco la sicura grazie Pippo per il tuo prezioso contributo salutandoti ti faccio un grosso in bocca al lupo per il tuo lavoro perché no per la Castellano Udas per il tuo libro su Ugo attesissimo e prossimamente in uscita ciao e grazie Pippo ciao e grazie a voi ciao